Gentili telespettatori, buona giornata. Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, i capi di AVS, partito di sinistra, annunciano la candidatura di Ilaria Salis con loro alle europee del 2024 che si terranno le votazioni l'8 e il 9 di giugno di quest'anno. Quindi l'insegnante Ilaria Salis, detenuta in Ungheria perché è accusata di aver aggredito un gruppo di neonazisti, sarà inserita nelle liste d'accordo con il papà. Quindi è stato un accordo tra Roberto Salis e Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni sono quelli che hanno poi candidato Abu Bakr Soumaoro, ve lo ricordate? Che pensavano con Soumaoro di avere l'asso nella manica perché era l'anti Salvini, Salvini era al 35%, quindi Soumaoro era l'asso nella manica contro Salvini, poi Soumaoro è successo quello che avete visto e Salvini è al 7,5%, quindi oggi puntano tutto su Ilaria Salis, non come anti Salvini ma come pull factor, fattore di attrazione perché porterà molti voti dal PD, da Renzi, da Calenda, da altri partiti di sinistra e anche dal centrodestra che voteranno non per AVS, molti voteranno non perché interessa qualcosa a questo partito, voteranno solo per aiutare questa donna ad uscire dal carcere dove rischia 24 anni. E così dopo ore di indiscrezioni e le smentite di Bonelli in televisione è ufficiale, alle elezioni europee per alleanza verdi e sinistra sarà candidata Ilaria Salis, l'insegnante attualmente detenuta in Ungheria. È diventata un caso per il duro trattamento, attenzione, attenzione, non è diventata un caso per il duro trattamento, dire così è falso. Ilaria Salis non è diventata un caso per il duro trattamento, ci sono 2400 e passa italiani detenuti in giro per il mondo in situazioni e in carceri che in confronto a quello dell'Ungheria, l'Ungheria è un hotel a 5 stelle, pertanto Salis non è diventata un caso per il duro trattamento, è diventata un caso perché questo caso è finito nella trasmissione di Formigli Piazza Pulita e dal giorno dopo ne hanno parlato tutti e il governo si è interessato immediatamente, ma il padre di Ilaria Salis aveva già contattato il governo da più di un anno ma non aveva ottenuto nessuna risposta. Quindi non c'entra niente il trattamento duro, è perché è venuto fuori il caso mediatico, poteva essere lei o poteva essere qualsiasi altro detenuto italiano in giro per il mondo, non ci sarebbe stata differenza. Se non ci fosse stato il padre a scrivere a Formigli, a spiegargli tutto, oggi questa Ilaria Salis sarebbe una perfetta sconosciuta come tutti gli altri 2500 italiani detenuti all'estero, altro che candidatura europea, sarebbe una sconosciuta detenuta all'estero. Dopo l'incontro con il padre in carcere, la Salis ha deciso per AVS, d'accordo con il papà candidiamo Ilaria, annunciano Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Il leader dei Verdi Bonelli all'aria che tira sulla sette aveva smentito l'ipotesi a ora di pranzo, con tanto di ironia dell'esponente di Forza Italia Alessandro Cattaneo che diceva dopo il caso Somaoro sono più prudenti. Mentre la Premier Giorgia Meloni poi vi racconterò qual è stato il commento. Ma poco prima delle 19 è arrivato il comunicato ufficiale. Io la notizia dell'indiscrezione era già sul Corriere della Sera come titolo di prima pagina online. Quando il Corriere della Sera mette una cosa così in prima pagina vuol dire che sanno che è certo. Quindi Fratoianni, Bonelli hanno smentito ma era ovvio che era sì. Così alle 19 di ieri sera arriva il comunicato ufficiale. Alleanza Verdi e Sinistra, in raccordo con Roberto Salis, ha deciso di candidare sua figlia Ilaria, detenuta in Ungheria, in condizioni che violano gravemente i diritti delle persone nelle proprie liste alle prossime elezioni europee. In queste ore i gruppi dirigenti nazionali stanno discutendo le modalità di questa scelta che vuole tutelare i diritti e la dignità di una cittadina europea. Anche dall'inerzia delle autorità italiane che si sono interessate solo dopo che il caso è arrivato in televisione. Quindi i vertici di AVS dicono che il governo si è interessato, ha fatto finta di interessarsi solo dopo che il caso è arrivato in televisione. E poi parlano dell'inerzia delle autorità italiane per ottenere una rapida scarcerazione in favore degli arresti domiciliari negati con l'ultima decisione dei giudici ungheresi. La speranza di Bonelli e Frattoianni, i leader di Europa Verde e Sinistra, è che intorno alla candidatura di Salis si possa generare una grande e generosa battaglia affinché l'Unione Europea difenda i principi dello Stato di diritto e riaffermi l'inviolabilità dei diritti umani fondamentali su tutto il territorio e in ognuno degli stati membri. Il nostro dice un gesto che può servire a denunciare metodi incivili di detenzione, soprattutto verso chi è ancora in attesa di un giudizio. Vabbè, questa è la versione ufficiale che devono per forza dare. Ilaria Salis viene candidata per fare il boom elettorale e fare man bassa di voti. Questa è la realtà. Poi ufficialmente bisogna raccontare la storia che è candidata per difendere i diritti umani dei cittadini europei. Questa è la storia ufficiale. La storia reale è dai che facciamo un sacco di voti, che tiriamo su un sacco di voti e facciamo il boom. Che poi è molto probabile. Comunque, poi dice la candidatura che è anche una testimonianza per lanciare una battaglia affinché siano portate nel futuro Parlamento europeo iniziative legislative per la salvaguardia dei diritti delle persone coinvolte in procedimenti penali in tutti i paesi dell'Unione Europea. poi c'è anche il commento di Salvini che risulta un po' curioso perché Salvini dice è il bello della democrazia. Quanto mi piacerebbe un confronto sul futuro dell'Italia e dell'Europa tra lei e il generale Vannacci? Eh? In che senso? Bah! Arrivederci a tutti e grazie.